E' un talento straordinario, sono tutte canzoni d'Antonia, ne scrivete bellissime. Ma scusa, cantacene qualcuna che sappiamo tutti, no? Facci le grazie di roba, dai, facci le grazie di roba. Dai, dai, così facciamo un bel coro e ci fomentiamo tutti. Sì, dai, dai. Dovrei fare uno spermiogramma. Spermiogramma venerdì alle 9, va bene? I risultati li viene a prendere lei oppure li spediamo a casa? No, no, vengo io. Cioè, nel senso che... E' che quella sciammi incosciente ce l'ho io. Tu devi essere quello che piedi per terra, perché sennò è un casino. Ok, Antonio, dovremmo fare il PCT. E te? E' un bacio, dai. Complimenti, Guido, 12 minuti che ha ascensore incluso. Sì, ciao, grazie. Ho parlato con tua madre di quella cosa nostra. Lei mi ha detto che ci ha preso un appuntamento da un ginecologo bravissimo, tipo un luminare che lavora col Papa. Il ginecologo del Papa? Questo deve essere parecchio bravo. Tutto va, va rovescio, ma vedrai... Ora sono sei anni. E io quale ci penso? Sei anni? Mi ha detto che sei l'angelo che le ha salvato la vita. Che se non era per te, lei chissà che fine faceva. Stammi vicino sempre, però, perché io non ce la faccio. Sempre. Come aمنo sempre. Grazie a tutti.